Ragazzi, ragazzi, buonasera a tutti, allora sta finendo la partita Barcellona-Inter 2-1, come vi ho detto per Napoli-Liverpool queste partite me le guardo più per le avversarie europee, cioè Liverpool da una parte e Barcellona dall'altra perché appunto a noi ci interessano quelle, non ci interessano Napoli e Inter allora, perché il nostro primo obiettivo deve essere la Champions League quest'anno prima di tutto, io rimango dell'idea che l'uomo in meno del Barcellona sia Valverde oggi è vero che ha fatto un cambio azzeccato come Vidal però è altrettanto vero che i giocatori che mette in campo, lui, ma non solo i giocatori, anche le idee cioè il Barcellona mi dà la sensazione di andare per inerzia, ok? su quello che è stato costruito negli anni, perché il Barcellona gioca così perché ormai ce l'ha come DNA dal 2006, dai tempi di Cruyff, probabilmente, quindi ancora prima poi tramandato da Rijkaard e completato alla perfezione appunto da Guardiola intanto è finita la partita, ha vinto il Barcellona 2-1 contro l'Inter io avevo pronosticato un pareggio e ci sono andati vicini, molti mi hanno dato del pazzo e quant'altro però di fatto non avevo, a differenza di altri, pronosticato una sconfitta dell'Inter per 3-0 cosa del genere, anzi io ero quasi convinto che uscisse con un punto dal Camp Nou l'Inter ci sono andati vicini e hanno sbagliato una cosa comunque, che tra l'altro, altra cosa quando mi dicono, ma Matuidi fa quel lavoro sporco, aggredisce ma chi ha mai detto che non ci vuole un giocatore del genere? ma ragazzi, noi avevamo Arturo Vidal che aveva le stesse caratteristiche di Matuidi ma era anche di un pianeta superiore rispetto a lui con la qualità tra i piedi cioè, Vidal il migliore in campo è il Barcellona è entrato lui, l'ha cambiata, da solo con qualità e aggressività infatti, quando il Barcellona ha messo Vidal quando Valverde ha messo Vidal non avevo detto che il Barcellona l'avrebbe vinta sicuramente però ho detto nel primo tempo al Barcellona è mancato proprio il pressing in fase di non possesso palle infatti, il Barcellona bravo, bravino col fraseggio ma poi non riusciva a concludere secondo me in tutta la partita è stato così più o meno a parte l'azione 2-1 perché poi l'azione dell'1-1 è stata un'invenzione di Vidal più che di Suarez perché Vidal gliel'ha messa col contagocce veramente perfetto però per il resto ho detto in fase di non possesso palla il Barcellona va in difficoltà perché comunque nessuno pressa io vedevo giocatori scazzati Suarez, Griezmann, Messi Messi insomma era tornato da un infortunio piccola parentesi Messi ragazzi io amo io sono contento di avere Ronaldo in squadra però ho sempre detto che Messi con i piedi ok si sta al 100% oggi non sta nemmeno al 100% però se i due giocatori sono al 100% entrambi Messi per me è più forte di Ronaldo non di un'altra categoria come ha detto Vallotelli però più forte sicuramente probabilmente Ronaldo è più leader di Messi ok sia con la nazionale sia con i club nei quali appunto ha giocato e gioca e comunque appunto tornando su Vidal a me fa ridere perché poi mi dicono queste cose se io dico ragazzi Vidal è di un altro livello era ed è di un altro livello a differenza di Matuidi cioè noi avessimo ad esempio un Vidal adesso con il palleggio che ci serve con il fatto di velocizzare appunto il palleggio Vidal sarebbe oro questa cosa che vuole Sarri e molti che continuano a difendere Matuidi però continuano a dire che ha ragione Sarri che vuole velocizzare il palleggio o è A o è B non è che puoi velocizzare il palleggio con che dire Matuidi in campo non è possibile perché ci vogliono giocatori che sappiano e siano soprattutto veloci mentalmente cosa che non so e bravi tecnicamente soprattutto cosa che non sono né che dire né Matuidi comunque a parte questo tornando a Barcellona Inter l'Inter ha fatto una buona partita però però sull'1-1 ha fatto un cambio Conte ha fatto un cambio all'italiana e lì ho detto ecco l'Inter la perde ha messo Gagliardini al posto di Sanchez spostando Sensi di fatto così al centrocampo ha elevato qualità ok non hai migliorato l'attacco perché di fatto Sensi non è un attaccante è nato diciamo come trequartista poi insomma ha fatto il mediano la mezzala ha fatto un po' di tutto centrocampo però non è una seconda punta poi vabbè ha giocato dietro ma comunque hai levato qualità per il palleggio perché Sensi era importante per uscire palla al piede appunto dal pressing del Barcellona nel secondo tempo e levando lui sei andato cioè praticamente hai consegnato come faceva Allegri ad esempio il pallino del gioco al Barcellona così poi bisogna anche dire che l'Inter ha fatto delle ripartenze con grande intensità e qualità però non ha palleggiato e con i giocatori che ha che non sono fenomeni però sanno quantomeno un po' palleggiare mi aspettavo qualcuno di più sulla gestione ovviamente ai Real Camp no però sulla gestione della palla insomma non sempre devi per forza ripartire a 200 all'ora perché se poi la palla l'azione va non va a buon fine hai perso un'azione hai perso le energie fisiche e poi fai ripartire l'avversario che è più tecnico di te più forte di te bisogna intanto sapere quando come ha fatto la Juventus ad esempio ok che era il Bayern Leverkusen non il Barcellona però come ha fatto la Juventus contro il Bayern Leverkusen ha capito ovviamente la partita quando aggredire quando velocizzare quando distanti dalla migliore Juventus comunque perché ci sono ampi margini di miglioramento però ha capito il momento della partita invece l'Inter ha fatto un'ora così spingendo con intensità poi quando cala l'intensità e questo è questo è un difetto delle squadre di Conte anche se è migliorato siccome è maturato dai tempi della Juventus col passaggio nazionale e Chelsea soprattutto Chelsea come ha fatto Sarri tutti e due sono maturati rispetto alle precedenti esperienze questo è sicuro però il difetto più grande di Conte che ha sempre avuto è che una volta calata l'intensità non ha l'intelligenza o la qualità ce l'ha però una volta che di fatto sei abituato a giocare in quella maniera con grande intensità e con qualità solo per uscire e ripartire praticamente contro squadre più forti di fatto creando un po' l'intensità non sai fare un altro tipo di gioco e quindi va in difficoltà il Barcellona ad esempio altra cosa ha solo quel modo di giocare gli attaccanti attaccavano lo stesso spazio facevano gli stessi movimenti nessuno anzi non è che uno attaccava il primo palo l'altro secondo e l'altro aspettava il pallone indietro come magari abbiamo fatto noi ieri sull'azione secondo gol con Iguain Ronaldo Berdandeschi allora attaccavano lo stesso anzi stavano tutti indietro nessuno attaccava la profondità e questa era un'azione capibile capibile assolutamente e poi soprattutto perché io dicevo che per me l'Inter avrebbe pareggiato perché comunque l'Inter e il Barcellona scusate l'ho visto in questo inizio di stagione e non è difensivamente fa veramente non dico ridere però parecchie difficoltà oggi ad esempio Terstergen Terstergen come cazzo si chiama a me non piace nel complesso però ha fatto delle uscite ottime ed è bravissimo impostare cioè lui è praticamente un libero il vecchio libero lui è un portiere che ha anche i compiti da libero sa impostare da dietro e non è una cosa da poco per una squadra che deve uscire o comunque far allungare la squadra avversaria per poi trovare gli spazi tanta roba assolutamente vabbè questo alquanto il Barcellona è una squadra che parolosalmente come Real Madrid come queste squadre qui se escono escono soprattutto i gironi poi una volta passati i gironi sono squadre che trovano dei meccanismi dagli ottavi in poi che possono arrivare fino in fondo parolosalmente o vengono eliminati i gironi poi ci sta che vengono illuminati ogni tanto ai quarti e agli ottavi in semifinale però di solito sono squadre così che poi se passano i gironi sono veramente temibili perché poi prendono consapevolezze quant'altro hanno esperienza comunque se fossi Valverde io giocatori come Bosquez che ormai hanno fatto il loro tempo secondo me li terrei fuori e metterei perché Valverde è un altro Allegri mette i giocatori fuori ruolo metterei De Jong mediano non fuori ruolo Griezmann è un altro giocatore che poi è stato preso e diciamo si pesta i piedi un po' commessi però Griezmann puoi anche capirlo però De Jong poi altra cosa io e un po' tutti noi De Jong potevamo prenderlo noi quant'altro però in questo inizio di stagione ragazzi sono stato uno dei primi a criticare Pianici però Pianici per me ha fatto molto 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 meglio di De Jong molto meglio e poi ultima cosa i fenomeni che dicevano De Litt l'avete pagato di qua di là adesso che De Litt ha iniziato un po' a carburare si non vengono più fuori nemmeno qui su Youtube che facevano video De Litt sopravvalutato e quant'altro non vengono fuori avete speso 75 milioni per un bidone però su De Jong che è iniziato male secondo me la stagione non bene è stato pagato 80 milioni però sono stati zitti perché questo significa essere in malafede contro la Juventus e basta e non essere obiettivi e poi voler far passare il messaggio che siete obiettivi quando non lo siete siete semplicemente anti Juventini fino a fine sempre comunque forza Juventus ci vediamo Napoli ha pareggiato contro il Genk in Belgio partite da non sottovalutare mai io temo più ad esempio rispetto a Leverkusen temo di più Mosca a novembre attenti bisogna fare veramente molta attenzione 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 stasera veramente siamo fuori in queste trasferte delicatissime buona serata a tutti grazie a tutti